Siamo molto simpatiche, le due giovanili e le due nuove. Siamo più simpatiche, ma che si può fare. Sempre ci passiamo. Noi siamo più cantati. Asciuta i corpi. Tu sei! Tu sei! Sì, si è capito. Si è capito. Oh, eh, 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 oh, eh. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.